Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi un nuovo video mi preparo con voi, sarà un mi preparo con voi musicale dove non parlo e vi mostro solamente come mi trucco. Il makeup che vi mostro è questo che ovviamente che mi vedete indosso e l'ho realizzato con la Naked Ultimate Basics. Vi ho parlato di questa palette nel video precedente e nei giorni scorsi ho messo alcune foto su Instagram dei makeup che ho realizzato con questa palette. Alcune di voi mi hanno chiesto appunto di replicare un makeup facendo una sorta di tutorial ma come sapete a me non piace fare tutorial, non mi piace insomma insegnare niente a nessuno perché non credo di esserne capace. Sono semplicemente una ragazza a cui piace truccarsi, punto e basta. Quindi vi mostro con piacere uno dei makeup che ho realizzato con questa palette. Spero che il makeup vi piaccia, vi lascio ovviamente adesso alla realizzazione e niente come al solito se il video vi è piaciuto lasciatemi un pollicino in su, se vi va iscrivetevi al canale e aspetto i vostri commenti, fatemi sapere che cosa ne pensate. Io come al solito vi mando un mega bacione, vi lascio al mi preparo con voi e se vi va ci vediamo presto. Ciao! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.